I carabinieri della stazione di Grotta Minarda hanno arrestato un 23enne già noto alle forze dell'ordine e denunciato il complice 19enne entrambi del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri in un parco pubblico di Grotta Minarda. I carabinieri, dopo averne scrutato i movimenti, hanno bloccato i due giovani sorpresi mentre cedevano ad un ragazzo una dose di marijuana. Altre dosi di analoga sostanza stupefacente sono state rinvenute all'esito di perquisizione occultate negli slip del 19enne. Condotti in caserma su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, il 23enne è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari mentre per il complice incensurato è scattato il deferimento in stato di libertà alla medesima autorità giudiziaria. La droga, unitamente a 15 euro in contanti, probabile provento delle lecite attività di spaccio, è stata sottoposta al sequestro unitamente ad un bilancino di precisione rinvenuto nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'arrestato.